Siamo ad Archeda, siamo con l'architetto Luca Picardi, ma in un angolo realizzato da Botanica, ma credo che sia qualcosa di particolare, il Teatrino delle Dei, ce ne parla? Sì, il Teatro delle Dei è un'idea appunto mia, dell'architetto Roberto Cappelli, che abbiamo voluto un posto all'interno di una mostra convegno dove i ritmi sono serrati per la presentazione di materiali, soprattutto di crediti formativi, ci siamo ritagliati un angolo in cui discutere di qualsiasi cosa, Teatro delle Dei, quindi non si parla solo di architettura, stamattina abbiamo tenuto l'inaugurazione e la presentazione di un libro, già il nome del libro, Revolution, Fare la Differenza, beh allora se noi o qualcuno di noi o le aziende vogliono fare la differenza, proprio la facciamo nel Teatro delle Dei, dove si viene senza formalismi, si viene sbottonati, avendo delle idee e mettendole in campo, oggi forse in questa pandemia ci è mancato il confronto, ben vengano tanti i teatri delle idee, ma all'interno di tutti i convegni, noi proprio esseri umani abbiamo il bisogno per accrescersi di confrontarci, ci è mancato e fortunatamente abbiamo trovato anche un luogo molto confortevole per il Teatro delle Dei, un posto dove agenti, tutti quelli del settore, si possono confrontare, ma sulle tematiche più differenti. Ieri abbiamo tenuto un dibattito sul marketing, cioè temi importanti ma affrontati in maniera diversa, che sono stati veramente fruttosi, come le aziende si relazionano a chi poi deve trasferire l'idea di commercio fuori e come questi due mondi vengono messi a confronto, perché a volte anche tra le grandi aziende non c'è dialogo tra il committente finale e la richiesta. Quindi questo secondo me è il modo e il luogo giusto in cui dire tutte queste cose, anche con un tempo che scorre con un ritmo meno serrato. Ritmo meno serrato, abbiamo una parete di verde meravigliosa, ce ne parlo? Allora questa parete di verde innanzitutto è un progetto, può essere inserito all'interno non solo di un appartamento, ma fare la differenza nell'esterno, quanta poco anche qui nel nostro paese c'è cultura di questo elemento. Questa è una vera struttura vivente, è una vera struttura vivente. Quindi noi architetti ci divertiamo con il design, perché in effetti ora guardate queste macchie, queste macchie sono dovute a diverse, diciamo, in fluorescenze diverse, in periodi diversi. Quindi possiamo avere una parete che in vari momenti dell'anno assume varie colorazioni diverse. Naturalmente anche io mi affido a Botanica, che sono loro i professionisti, quindi io ho un'esigenza, ma sono loro che mi risolvono la mia esigenza, sia in un appartamento, ma sia come in uno spazio esterno, e Napoli è una città connessa con l'esterno.